Stasera ci presenteranno i brani di questo bellissimo quindi vinine, vinine, un vinine prodotto dalla Warner Italia se non ce l'avete dovete prenderlo se proprio il piatto non ce l'avete non avete scuse qui hanno anche altri cd, magliette poi insomma, infatti ho la firma dove volete, non vi preoccupate e fatemi un applauso a Beppe Farfietti, Deo e Sala e Supernatural! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti